Sulle decisioni adottate dal Consiglio federale sentiamo l'intervista al segretario leghista. Un nuovo assetto organizzativo, segretario? Sì, abbiamo deciso oggi un nuovo assetto di governo della Lega in prospettiva degli impegni futuri, considerando che ormai il governo è nato e che il quadro politico si è definito. Abbiamo tante sfide da cogliere, dobbiamo rinforzare la struttura operativa della Lega, l'azione politica anche sul territorio e per questo che oggi ho deciso di nominare due vice segretari, Flavio Ottosi e Matteo Salvini, perché accanto a me sviluppino l'azione politica organizzativa e operativa della Lega in vista dei prossimi impegni. La costruzione della macro regione in primo luogo e l'impegno elettorale dell'anno prossimo, le elezioni europee, le elezioni amministrative e io penso anche alle elezioni politiche. Domani viene Alfano a Milano, cosa gli dirà? Domani lo incontrerò, l'ho ringraziato per l'impegno che ha preso su Milano, però deve essere un impegno che rimarrà, non posso pensare che questi 140 poliziotti rimangano un mese o due. Non c'è solo Milano però, gli farò presente che stiamo sviluppando un piano di ricognizione del fabbisogno di sicurezza, chiamiamolo così, in tutte le città della Lombardia dal punto di vista della sicurezza urbana e vorrei sviluppare questa azione in accordo col Ministero dell'Interno e sono certo che Alfano accoglierà favorevolmente questa mia proposta. Come si sta muovendo, secondo lei, il Governo sul fronte al lavoro? Oggi Giovannini dice che vuole ridurre la disoccupazione di 8 punti, però è difficile sgravare il costo del lavoro soprattutto per i giovani, insomma. Ma c'è ancora questo dubbio? Le buone intenzioni ce le hanno tutte, il Ministro Giovannini certamente, il lavoro si interviene a creare lavoro in un modo solo, abbassando la pressione fiscale, cancellando l'IMU per davvero e non solo per finta, come ha fatto questo Governo, rinviandola solo a settembre, abbassare la pressione fiscale alle imprese, alle piccole e medie imprese del Nord. L'unico modo è questo, il resto sono solo buone intenzioni che purtroppo si scontreranno con il muro della realtà. Per quanto riguarda il gioco d'azzardo, la Regione è molto decisa da andare avanti? A che punto è il disegno di legge? Lo stiamo definendo, abbiamo detto in carico gli assessori, ho detto in carico gli assessori, voglio portarlo entro poche settimane all'approvazione della Giunta. Non tutte le competenze sono della Regione, ma anche la Regione ha competenze in materia di sanità, per esempio, in materia di organizzazione del territorio. Su queste due competenze si può fare molto per limitare il vizio e per prevenire il vizio del gioco d'azzardo. Quali sono i punti salienti? Quelli che ho detto in un'intervista a Repubblica oggi, è uscita oggi su Repubblica. L'intervento della Regione per prevenire il vizio che rovina tante famiglie e che può portare anche a un atteggiamento patologico, ma soprattutto sono i soldi buttati da tante famiglie che rovinano i patrimoni di tante famiglie perché uno prende questo vizio e noi dobbiamo prevenirlo. Ci sono degli strumenti che stiamo approfondendo e che definiremo presto in un progetto di legge innovativo, la prima proposta così innovativa che fa una Regione e sarà la Regione Lombardia a farlo.